Fai prezzi troppo bassi e pensi di non poterli alzare perché altrimenti i clienti non acquisterebbero più da te? Questo è un tema che abbiamo già affrontato qualche giorno fa e oggi voglio riprendere questo tema cercando di punzecchiarti in qualche modo. Molte persone, molti imprenditori credono che alzando i prezzi i loro clienti non compreranno più che in alcuni casi è vero perché immagina di acquistare una cosa e dall'oggi al domani questa cosa aumenta di prezzo senza alcuna motivazione e la stessa cosa venduta anche da altri concorrenti probabilmente ti rivolgeresti ad altri che hanno il prezzo diciamo vecchio. Qual è il punto però, la cosa che noi dobbiamo guardare? Guardiamo i nostri concorrenti e rendiamoci conto se effettivamente c'è qualcuno che vende a prezzi più alti dei nostri o in alcuni casi molto più alti dei nostri. La risposta nel 95% dei casi è sì, c'è qualcuno che lo fa. Quello che devi fare è chiederti ok ma loro cosa fanno di diverso? Perché riescono a vendere a un prezzo più alto? Cerca di capire qual è la cosa che li differenzia realmente e cerca di fare tu e queste caratteristiche in modo da poter a tua volta alzare i prezzi. A volte, e anzi direi spesso, quando alziamo un prezzo e il nostro servizio è unico e diverso rispetto a quelli concorrenti le persone compreranno da acquistare quindi non ci sarà un calo delle vendite. Anzi, in alcuni casi proponendo un prodotto più costoso al mercato cioè a persone che non ci conoscono e che non hanno ancora provato il nostro prodotto o servizio sarà anche più facile vendere perché la qualità percepita che otterranno sarà superiore. Quindi oggi ti invito a concentrarti su questo e a fare un esame di coscienza e chiederti ma perché i miei concorrenti riescono a vendere a un prezzo più alto? E non cercare delle scuse ma cerca di scavare realmente a fondo e di trovare quale è questa motivazione perché rendertene conto ti permetterà di alzare i prezzi a tua volta. Approfitto di questa pillola per invitarti martedì 14 maggio alle ore 21 al webinar che terrò in diretta perché affronteremo questo tema, cercheremo di entrare più nello specifico e sarà un webinar che potrebbe veramente stravolgere la tua carriera imprenditoriale. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, concludo la pillola con una domanda provocatoria dal lato opposto. Guardati attorno e guarda chi sono i concorrenti che vendono a un prezzo più basso del tuo. Ci sono? Probabilmente sì. E lavorano molto più di te? Nella maggior parte dei casi la risposta è no. Per cui la verità è che le persone non scelgono in base al prezzo o perlomeno non è il prezzo il vero fattore decisionale che porta le persone a fare una scelta. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!